E' noto che un'economia moderna si fonda sulla capacità delle imprese di finanziarsi ricorrendo a vari strumenti. Da un lato abbiamo quindi le imprese che possono emettere strumenti finanziari, dall'altro lato abbiamo le banche che quindi possono finanziare le imprese e quindi danno credito, ma evidentemente le banche danno credito alle imprese che lo meritano e quindi operano, come è ben noto, un'importante selezione del soggetto da finanziare. Questo perché un'economia cresce quando si realizza un circuito virtuoso, da un lato il risparmiatore che quindi risparmia, dà i soldi alla banca, la banca li presta all'impresa, l'impresa può quindi produrre, crescere, investe, guadagna, restituisce il finanziamento e quindi l'economia, le il suo complesso cresce. Quindi il credito deve essere indirizzato verso quelle imprese, verso quei settori poco rischiosi o comunque rischiosi, ma in grado di far crescere l'economia. Evidentemente non sempre però un'economia riesce ad esprimere questo processo, nel senso che ci sono dei settori che meritano credito, ma sono particolarmente rischiosi. Allora in questo caso ecco che lo Stato o delle istituzioni sovranazionali possono favorire le banche a concedere credito anche verso questi settori, verso queste imprese che magari sono al momento un po' svantaggiate. Perché lo fanno? Perché magari c'è una fase di crisi e quindi il credito può aiutare ad uscire lentamente dalla crisi, oppure perché si vogliono difendere dei posti di lavoro in un settore che in questo momento è in difficoltà, oppure perché bisogna finanziare settori strategici per l'interesse nazionale. Come avviene questo meccanismo? Ci sono delle agevolazioni per cui ad esempio una banca dà finanziamento ad un'impresa e lo Stato interviene pagando lei gli interessi o parte degli interessi di questo soggetto, di questa impresa che magari non è in grado di farlo. Oppure lo Stato garantisce il rimborso del prestito fatto dalla banca qualora l'impresa fosse in difficoltà. Quindi questa è una situazione in cui il credito agevolato in qualche modo interviene una fase patologica. Però il credito agevolato ha anche un'altra importantissima funzione, agevolare in qualche modo la nascita di imprese e industrie nuove. Pensiamo al finanziamento dell'innovazione, c'è un rischio fondamentale, ma sono anche aziende che poi possono avere un futuro altamente brillante.